buonasera iscritti oggi video del 31 di dicembre perché ho ricevuto finalmente il mio regalo di natale il mio auto regalo di natale oltre a quelli che ho ricevuto da amici mio figlio mi ha regalato questo libro meraviglioso della national geographic che è veramente spettacolare lo zen quotidiano bellissimo e più un giardino zen con tanto di gong sabiolina pietre bello bellissimo è stato veramente un natale speciale allora invece questo video lo faccio per parlarvi di questa mini stampante questa è una mini stampante in bianco e nero si può utilizzare con computer o con telefonino col telefonino ho avuto qualche difficoltà ma semplicemente perché come adesso andrò a mostrarvi le istruzioni sono in indolinate tutte le lingue del mondo tranne che italiano allora abbiamo di tutto e di più inglese poi abbiamo sempre inglese poi vediamo ancora perché io e il mandarino andiamo d'accordissimo questo deve essere non lo so non lo so veramente è pazzesco che si vendano dei prodotti in italia e non ci siano le istruzioni in italiano ma va bene anche così per cui mi sono affidata a mio figlio che diligentemente mi ha detto quello che dovevo fare allora come si presenta questa mini stampante è bellissimo è carinissima presa su amazon a pochissimo durante non mi ricordo se il black friday o il black monday qualcosa del genere allora ditemi se non sembra è un orsacchiotto è un orsacchiotto allora ha il suo cavetto per essere ricaricata poi praticamente lei esce dalla scatola così non c'è nient'altro oltre alle istruzioni non c'è assolutamente niente per cui prima cosa che ho provato a fare vedendo che c'è una una frecciolina vediamo se riesco sì si vede ecco vedete le due frecce ho pensato di sicuro dovrò aprirla per mettere dentro la carta e invece la carta è già al suo interno ok è già tutto a posto io ne avevo tirato fuori un pezzo e poi sempre con lo stesso movimento si richiude ok dici allora la accendo così vediamo anzi no prima l'ho messa in carica e poi ho detto adesso la accendo così faccio qualche prova sì l'ho accesa ok è accesa e poi non funzionava ragazze mi sono scaricata la app sul telefonino per vedere se magari dovevo usare la e in effetti devo usare l'app poi andavo a vedere su cosa dovevo fare per farla funzionare niente non ci riuscivo assolutamente in pratica cosa dovevo fare dovevo si accenderla ma poi dovevo schiacciare due volte questo tastino lei emetterà adesso non ve lo faccio vedere bene e metterà un codice qr che andrà inserito una volta che sul telefonino ci vi verrà chiesto vi verrà chiesto il codice qr in pratica voi dovete mettere questo codice che adesso io copro parzialmente all'interno del riquadro della lettura del codice qr e la macchinetta inizia a funzionare cioè è di una facilità pazzesca ma io ci ho perso qualcosa come un'ora e mezza due per capire che dovevo stampare questo benedetto codicillo dopodiché col telefonino sono andata sempre con questa applicazione a vedere che cosa potevo stampare e mi sono stampata aspettate vediamo se li ho messi in questa agenda o nell'altra potete stampare foto potete stampare testi potete stampare tutto ciò che vi passa per la testa io pensavo di averli messi qua in giro esatto allora che strano due agende uguali ma dai allora mi sono stampata questo che praticamente è un è già all'interno sono dei frame all'interno del del programma in pratica e sono due due template inseriti uno dentro l'altro perché uno era solo la cornice col faro e poi d all'interno scritto buon anno e lo stampato e poi questo orsetto meraviglioso che anche questo è all'interno del programma è troppo 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 grazioso infatti poi andrò ad attaccarli nella nuova agenda nella vecchia agenda per farvi per dimostrarvi che si può stampare veramente di tutto no questa è la nuova non ci capisco più niente nella vecchia sono andata ad attaccare nel giorno di oggi la mia piccola peripage mini printer a 6 ditemi che non è carinissimo qualsiasi foto voi vogliate tenere come ricordo potete usare questa mini stampante in bianco e nero che stampa su carta aiuto non mi viene il nome carta termica adesso io ne ho un altro rotolino perché c'era quella all'interno e questa qua invece era una carta termica che avevo io a casa di un kit che avevo comprato ma sempre per la mia cartopazia che quella non finisce mai e niente così ho fatto la foto alla mia peripage e l'ho messa in memoria nel telefono e poi l'ho scaricata perché poi vi chiede dove scaricarla voi andate su peripage e niente sarà bellissimo comunque una cosa che volevo dirvi è che l'ho acquistata su amazon però è il venditore non è nella comunità europea se non sbaglio e se non sbaglio aspettate che ve lo dico subito e allora Hong Kong sì adesso ve lo faccio vedere il mittente il mittente vabbè vi ho fatto vedere anche il mio indirizzo ma non fa niente vedete Hong Kong e per cui ci ha messo fate conto novembre tutto novembre tutto dicembre perché siamo al 31 per cui tutto novembre tutto dicembre però doveva arrivare il 16 di gennaio è arrivata oggi è stata una bellissima sorpresa sono felicissima se avete domande a un'altra cosa tutte le volte che la macchinetta viene spenta bisogna fare la configurazione o schiacciate il tastino due volte per cui vi ristampate il codice QR se no vi tenete tipo io che l'ho fatto adesso mi tengo quello da parte così poi configurerò il cellulare con quel codice QR e potrò continuare a usare la mia peripage mini printer A6 mi raccomando se avete domande scrivetele tutte 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 quante giù nella sezione dei commenti se siete nuovi mi raccomando iscrivetevi ditelo ai vostri amici che c'è una cartopazza che compra questi aggeggi e che poi fa i video tutorial che oltretutto della peripage mini printer A6 non ci sono tutorial in italiano sono tutti in lingua straniere in lingue straniere cosa dire di più se non che vi auguro una buona fine d'anno finalmente questo 2020 è finito non lo sopportavamo più speriamo che il 2021 sia migliore ma suppongo di sì perché peggio di così davvero manca solo la terza guerra mondiale vi mando un bacione un abbraccio grandissimo e ci vediamo al prossimo video ciao